Salvatore Encardona, segretario cittadino dell'Udc, il partito comincia a interrogarsi sull'utilizzo dei 32 milioni di euro, di cui si parla moltissimo in queste settimane. Ma non soltanto vi interrogate all'interno del partito, ma avete anche consultato i cittadini? Sì, chiaramente la nostra linea, già tracciata subito dopo il congresso del 28 febbraio, è proprio quello di incontrare giorno per giorno i cittadini di vari quartieri. In questi giorni l'Udc si è recato all'interno dei quartieri della città e ha incontrato parecchia gente, parecchia gente che ci ha proprio fornito delle istanze da portare all'amministrazione. Chiaramente noi non ci poniamo come un'opposizione a tutti i costi, io questo l'ho sempre ribadito, la logica dell'opposizione non ci interessa. Quello che ci interessa è solo ed esclusivamente lavorare e fare il bene della città. Chiaramente si parla, e io da cittadino gelese me lo auguro, di una gela vocazione turistica, ma non possiamo pensare al futuro quando invece mancano i servizi essenziali che motiverebbero il soggiorno di un soggetto in città. Che cosa è emerso dal dibattito all'interno del partito e invece dalle dichiarazioni, dalla consultazione così informale dei cittadini? Sì, il partito chiaramente lavora anche in concerto con la cittadinanza, diciamo che le stanze sono se non identiche ma molto simili a quelle del partito. Chiaramente il partito pensa anche ad un'alternativa all'indotto, quindi lo sviluppo di ciò che siano i settori dell'agricoltura, del mare, ma ci sono anche dei problemi minori ma che non vanno tralasciati. La gente mi parlava ad esempio di un piano colori, di cui si parla da parecchi anni, ma un piano colori dove nessuno mai ha messo mano. Perché non iniziare con anche il minimo? Ci sarebbero due possibilità attraverso il piano colori, ad esempio dare una possibilità a quelle aziende medio-piccole che oggi sono costrette a chiudere i battenti, ma e poi rendere soprattutto una città più bella. Tra i servizi essenziali invece che cosa avete annoverato? Tra i servizi essenziali chiaramente il decoro urbano, la viabilità soprattutto, la viabilità è comunque una pulizia. Abbiamo dato anche spazio a quello che può essere il collettore fognario e a quello che può essere la pulizia delle calitoie, perché sappiamo benissimo che durante la stagione delle piogge Gela è interessata da numerosi disagi, mi riferisco ad esempio alla Via Venezia. Il concetto fondamentale dunque ci sembra di capire prima di accogliere e pulire casa? Sì, chiaramente e senza dubbio le compensazioni sono a servizio della città. Non possiamo parlare di Oratorio Salesiano o Ostello della Gioventù, che attenzione, lo ribadisco, sono tutte bellissime iniziative, ma dobbiamo prima partire dall'ABC per poi arrivare alla Z. Questo, ripeto, noi ci impegneremo, vigileremo sull'operato dell'amministrazione e non risparmeremo le critiche dove dovessero esserci. Grazie.